Antonio Spagnoletti Antonio Spagnoletti Antonio Spagnoletti Scendiamo giù nel soggiorno, nella stanza dove è presente il caminetto e aspiriamo tutta la cenere che si è creata, che è venuta giù dalla polizia con un aspiracenere che è un aspirapolvere adatto che crea una depressione e divide la cenere dalla fuligine per poi essere conferita nelle discariche appropriate. Abbiamo poi chiesto ad Antonio quale sia stata la situazione più strana e curiosa in cui si è imbattuto durante tutti questi anni di attività della spazzacamino. Ecco cosa ci ha detto. La più strana che mi ricordo è quando un cliente ci ha chiamato per fare una polizia dicendo che il caminetto non tirava, abbiamo fatto la videoispezione e abbiamo praticamente scoperto che all'interno della canna fumaria c'era una vera e propria bicicletta inserita nella canna. La cosa curiosa è stata proprio quella di dire come sarà finita dalla bicicletta all'interno della canna e poi con un pochettino di lavoro siamo riusciti praticamente a tirarla fuori e a liberare la canna fumaria dalla bici.